Salve a tutti, 8 agosto, mercati aperti e siamo ancora qui a parlarne, a fare una chiacchierata anche perché questa settimana, come molti di voi sapranno, sia trader, investitori, appassionati anche se è una settimana ad agosto, quindi i volumi sono bassi sostanzialmente come accade nel mese di agosto, cioè addirittura chi ad agosto e a dicembre non trada perché ritiene che siano mesi più complicati da questo punto di vista proprio perché condizionati dall'assenza o dalla mancanza di quei volumi che poi sono necessari per la propria strategia, ma al di là di questo è una settimana importante nonostante il periodo di ferie, di vacanze perché mercoledì c'è il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, il dato relativo al mese di luglio, un mese che potrebbe eventualmente iniziare a registrare il calo delle materie prime che c'è stato appunto da partire da giugno, andiamo un attimo a guardare qualche aggregatore di materie prime, abbiamo, ecco, innanzitutto volevo fare vedere il, questo indice, il Baltic Dry Index che è un po' il costo dei noli marittimi sostanzialmente, guardate, è tornato praticamente sui livelli pre-covid e anche questo è un po' uno dei simboli dei colli di bottiglie che si erano creati nella supply chain ed molti ipotizzano appunto che questo rientro potrebbe essere molto molto positivo anche sul fronte dell'inflazione, ma se andiamo a vedere appunto stavamo parlando delle materie prime, vedete il petrolio, si sta confermando sotto i 90 dollari, è una soglia molto forte, un supportone, ne abbiamo già parlato, però chiaramente non riesce ad andare oltre 90 dollari, staremo a vedere il rame, dottor Copper, così lo chiamano per la sua capacità di dare una previsione sull'andamento industriale e in balzo, ma comunque in forte difficoltà e vi dicevo, uno degli aggregati delle materie prime tra i vari ETF che si possono pescare in circolazione, comunque ci dice che il 13 giugno valeva 30, adesso vale 25, quindi questo calo sostanzialmente delle materie prime, da 30 a 25, un calo del 20% potrebbe impattare sull'inflazione, iniziare a impattare sui dati di inflazione, tanto che c'è chi ci si aspetta che potrebbe essere stato raggiunto il picco, staremo a vedere, in ogni caso è una settimana molto importante appunto perché c'è questo dato che inevitabilmente il market mover del mese, il mese in cui non ci saranno le banche centrali, che ci torneranno a riunire a settembre e quindi è un dato straordinariamente importante che va osservato, oggi però vorrei farvi vedere qualche altro grafico e lanciarvi qualche altra considerazione perché ormai i mercati finanziari si sono un po' spostati dall'inflazione alla recessione, quindi da monitorare il dato dell'inflazione certamente, ma è più il tema della recessione che chiaramente sta prendendo vigore tra i mercati e quindi la recessione spiega anche perché alcuni investitori hanno cominciato a comprare titoli tecnologici in particolari che sono i primi ad apprezzarsi in uno scenario diciamo di tassi che non salgono più rispetto a quanto già scontato dal mercato perché se chiaramente davvero si tratterà di recessione sarà sempre più difficile per le banche centrali alzare i tassi anche perché ci si augura tra virgolette che questa recessione butti oltremodo ulteriormente giù quell'inflazione che resta comunque il nemico da combattere. Il dibattito è recessione mild, cioè una recessione soft, leggera, oppure un uragano perché qui qualcuno si sbaglierà alla prova dei fatti tra qualche mese qualcuno tra i big avrà preso una cantonata o comunque avrà sbagliato la propria previsione perché c'è ricordo la previsione di G.P. Morgan che abbiamo pubblicato sul Sole 24 ore a tal proposto, vi invito a leggere tutti i miei articoli sul Sole 24 ore, lascio il link in descrizione e tra l'altro nei prossimi giorni esaminerò una statistica delle 15 recessioni intercorse dal 1930 al 1920 e come sono andate le borse durante gli anni di recessione che sono durate in media circa 12,5 mesi, c'è qualche sorpresa nel dato, ve lo preannuncio, questo articolo che uscirà nei prossimi giorni sul Sole 24 ore. Comunque qui G.P. Morgan attraverso le parole del suo amministratore delegato Jimmy Diamond vede un uragano economico in arrivo, quindi parla di uragano economico, quindi non certo di mild recession. Quella che invece vede Elon Musk, il CEO di Tesla ormai, quasi superfluo sottolinearlo, lo conoscete tutti, che ipotizza una relativamente leggera recessione che dovrebbe durare circa 18 mesi. Quindi abbiamo qui i due estremi. Elon Musk che ha detto ai suoi investitori nei giorni scorsi, ha fatto questo discorso, ha parlato di relatively mild recession, circa 18 mesi. A giugno, quindi comunque sempre un paio di mesi fa, G.P. Morgan parlava, ipotizza che non ha cambiato per ora la visione, uragano economico in arrivo. Quindi una delle due chiaramente non avrà alla prova dei fatti ragione, sarà difficile ovviamente capire quello che accadrà. segnalo anche che a conferma della confusione, ma non potrebbe essere altrimenti perché nessuno ha la sfera di cristallo, ci sono anche dei grafici che circolano su esperti, su internet e su twitter. Vi invito a seguire anche il profilo di questo importante gestore, famoso gestore, Kramer, che ha pubblicato questo grafico che in realtà farbbe più contento Michael Berry che prevede disastri su disastri, addirittura un S&P 500 sotto intorno ai 2000 punti o giù di lì, quindi tenete conto che adesso siamo poco oltre i 4000. Lo stesso che previde poi nel 2008, prima del 2008, la crisi del mercato immobiliare che poi è stata la più grande crisi finanziaria che ci portiamo ancora alle spalle, ecco praticamente abbiamo questo grafico che fa vedere l'andamento del confronto linea gialla tra quello che è successo a Wall Street, tra l'andamento di Wall Street nel periodo 2006-2008, quindi andando in pieno a prendere il crollo della crisi Lehman, la crisi subprime, la crisi inescatta dai muti del mercato immobiliare, quella prevista anche un anticipo da Michael Berry, è linea bianca il periodo che va dal 2006, scusate dal 2020 ad oggi, infatti la linea bianca si ferma prima, si ferma qui. Ecco, questo grafico, se davvero fosse confermata questa spettacolare correlazione tra i due periodi storici, che però hanno delle differenze profonde dal punto di vista finanziario, non dobbiamo mescolare i grafici e pensare che siano identiche le condizioni del passato, questo potrebbe essere un errore grave, però da un punto di vista così grafico, estetico, c'è una straordinaria correlazione tra questi due periodi e chiaramente se fosse tale, quello in corso, partito a metà giugno, sarebbe un rally all'interno di un mercato comunque ancora ribassista, che attenderebbe l'ultima onda ribassista, che poi sarebbe quella che gli Eliottiani, gli Eliottiani, gli amanti di Eliott, per chi non lo conosce vi invito ad approfondirlo, è quella che sarebbe appunto la quinta onda finale di un impulso, in questo caso ribassista, quello che è accaduto infatti nel 2008, quando ci sono state appunto queste cinque onde e questa qui fu la quarta onda, quella di respiro, quella in cui c'è anche poi chi sottolinea che i bear rally sono importanti, sono fisiologici all'interno di un mercato comunque ribassista, così come durante un mercato rialzista le forti correzioni a ribasso sono allo stesso modo salutari, perché si va in quel modo a pescare liquidità, sia per i ribassisti, sia per i rialzisti, ci sono cluster di liquidità da andare a prendere e quindi staremo a vedere, però c'è questo grafico che è chiaramente pubblicato da Bloomberg, dagli esperti elaborato poi da Bloomberg sui dati Bloomberg, che comunque è un grafico che è abbastanza scioccante, ma ripeto non bisogna fare l'errore di andare poi a pensare che accadrà esattamente questo, però il passato del 2006-2008 indica per ora una correlazione e quindi da non sottovalutare, forse questo ci si augura Michael Berry, ma noi non lo sappiamo anche perché Musk ha parlato di mild recession, quindi chi lo sa, questo video infatti è proprio per far vedere quanto sia difficile, quanto siano all'opposto le campane anche tra gli istituzionali, non soltanto tra i piccoli trader e noi al bar che parliamo eccetera eccetera, di dove andrà il mercato, ma gli istituzionali con dichiarazioni pubbliche escono e la pensano probabilmente in modo davvero diverso. Poi c'è un altro dato che volevo farvi vedere e che non è un gran dato, nel senso può essere un dato che può avere un senso, però non è un dato anche qui che significa necessariamente qualcosa, però Larry Flink è praticamente il CEO di BlackRock, che è il più grande gestore al mondo di risparmi con oltre 10.000 miliardi di asset gestiti, quindi Larry Flink il 3 agosto ha venduto 44.500 azioni della sua azienda, la sua posizione in BlackRock, pari all'8% perché il 44.500 di 563.000 è l'8% della sua posizione, l'ha venduta, secondo questo esperto analista trader, si tratta di un comportamento che avrebbe già reiterato con queste proporzioni simili prima dello shock del Covid. Io ripeto, gli insider selling sono importanti, io stesso li seguo e questo dato è confermato anche da quest'altra piattaforma che fa appunto vedere come il 3 agosto Larry Flink abbia venduto 44.500 azioni a un prezzo massimo di 684, quindi c'è tutto registrato, poi c'è anche il 25 luglio un'altra grande vendita interna, infatti diciamo che tra i punti dolenti degli azionisti BlackRock si segnarono appunto queste strong insider selling negli ultimi periodi, mentre per quanto riguarda l'insider buying negli ultimi 3 mesi non c'è stato nessun alter ego dell'insider selling, cioè l'insider buying, cioè quando gli azionisti importanti, i membri delle società che rivestono ruoli nell'azienda eccetera eccetera vanno a comprare ulteriormente le azioni della stessa azienda, quello è l'insider buying, l'insider selling che tendenzialmente può essere una spia dall'anno e uno si dice ma perché il CEO ha venduto l'8% delle azioni della sua succede, succede può essere per tanti motivi però chiaramente è un altro puntino da analizzare, da mettere nel calderone di tutti i puntini che un investitore chiaramente dovrebbe andare ad elaborare. Quindi repilogando Elon Musk parla di mild recession, una sorta di atterraggio morbido, durerà 18 mesi ma sarà comunque non traumatico, G.P. Morgan parla di uragano, BlackRock, il CEO di BlackRock vende l'8% delle proprie azioni, i dati macro in arrivo potrebbero essere peggiori del previsto, non lo sappiamo, intanto c'è questo dato sull'inflazione molto importante che arriverà mercoledì ma gli investitori sono più concentrati in questo momento sulla recessione, quindi magari su quei dati macro leading indicator come gli indici PMI e altri dati che possono dare appunto la visione su come si prefigurerà questa probabilissima recessione dei prossimi mesi, quanto sarà grave, quanto sarà dannosa per quanto riguarda l'economia. A questo proposto chiudo facendovi vedere un ultimo grafico che ho pubblicato su Twitter nei giorni scorsi, che comunque anche questo è molto interessante a mio avviso perché fa vedere i danni che una banca centrale, in questo caso la Federal Reserve può arrecare all'economia quando va ad alzare i trassi troppo al di là della soia che essa stessa definisce soia di neutralità. Perché parlo di questo grafico? Perché nell'ultima riunione della Federal Reserve Powell ha detto, quindi parliamo di fine luglio sostanzialmente, ha detto che i tassi attuali negli Stati Uniti, quindi tra il 2,50 e il 2,75, in questo range, sono i tassi che rappresentano la soglia di neutralità. Soglia di neutralità significa una soglia che per la banca centrale è quella in cui i tassi che sono manipolati dalla banca centrale ai propri scopi, cioè quelli di controllare inflazione e occupazione, non arrecano né danni né benefici al prodotto interno lordo, cioè lasciano il prodotto interno lordo libero di correre con le proprie gande. Ma questa elaborazione, questo grafico storico che vado ad ingrandire, ci dice che ogni qualvolta la Federal Reserve è stata restrittiva dopo i tassi di neutralità, in questo caso linea nera, si sono verificate delle più grandi crisi finanziarie o comunque le più grandi correzioni di borsa dell'ultimo ventennio sostanzialmente. Quindi qui la Fed alza i tassi e la linea blu sono appunto i tassi neutrali, la soglia di neutralità dei fund rates. Quindi alza i tassi e qui è in concomitanza sostanzialmente dello scoppio della bolla di internet quando appunto le aveva alzate. Anche qui la grande crisi finanziaria del 2008 eccetera eccetera, i tassi erano molto al di là della soglia di neutralità, anche il Tapper Trump del 2014 in quel caso si era allontanato dalla soglia di neutralità. Poi nel 2015 c'è stata una tempesta partita dalla Cina che ha comunque fatto vivere un agosto e un settembre molto molto brutti alle borse e poi anche ricordiamo fino al 2018, un dicembre drammatico, anche lì eravamo sotto la soglia di neutralità per quanto riguarda i tassi della Federal Reserve. Quindi magari dietro questo rimbalzo delle borse ci potrebbe essere anche il fatto che se Powell ha detto conosco bene, siamo in neutralità e ovviamente sottinteso so che alzare, essere molto aggressivo oltre la soglia di neutralità in passato ha regato dei danni importanti e quindi magari questo messaggio di consapevolezza può aver spinto gli investitori ad essere più rilassati. Se Powell parla di neutralità su questi livelli vuol dire che più di tanto non si può andare all'insù perché in passato la storia insegna cosa poi è successo e quindi magari anche questa espressione di Powell, ha parlato di soglia di neutralità, può aver dato quel boost di ottimismo alle borse che abbiamo visto in questo momento, in questi ultimi due mesi ormai, da metà giugno, Nasdaq più 20% eccetera eccetera. Però c'è ancora chi ritiene questo un bear market rally, in quel caso appunto c'è da aspettarsi qualcos'altro, una ultima onda impulsiva a ribasso e più in là, chi invece non vuole perdere questo treno e comincia a investire per non perdere il treno, una sorta di FOMO, fear of missing out, qualora appunto questo non dovesse essere un bear market rally. E ripeto, l'indecisione è totale anche perché dipenderà tantissimo se non tutto dai prossimi dati macro, indecisione anche su altri livelli, tant'è che G.P. Morgan, Jim Diamond e Elon Musk la pensano in modi diversi, stiamo comunque parlando di protagonisti del mondo finanziario-industriale degli Stati Uniti e quindi delle più importanti aziende in questo momento al mondo. Bene, spero di avervi non troppo complicato le idee o il quadro, ma fatemi sapere cosa ne pensate voi, cioè a vostro giudizio questo qui è un bear market rally, quindi c'è da aspettarsi poi uno storno più violento e quindi i minimi che abbiamo visto in borsa a metà giugno non possono essere considerati di fatti il bottom del mercato azionario, oppure sostanzialmente non c'è da perdere, chi non entra adesso perde un po' di treno perché è ripartita già, è ripartito in anticipo il mercato azionario andando di fatti a scontare una lieve recessione e quindi i settori come i tecnologici, come i discrezionali che di solito si muovono prima vanno assolutamente ad anticipare e quindi il movimento. I mercati finanziari sono belli e complessi anche per questo, sono controintuitivi e in questo momento lo stanno dimostrando totalmente perché appunto l'economia, i dati macro ci dicono una cosa, i mercati ce ne stanno dicendo un'altra, ma anche le previsioni appunto degli esperti non combaciano mai e neanche in questo momento e questo perché è così bello ma anche così difficile essere investitori. Alla prossima!